I nostri amici nigeriani li abbiamo conosciuti tramite il banco alimentare, avevano fatto richiesta del pacco. Loro hanno quattro figli, due maschi e due gemelline un po' distanziate. In questo periodo siamo proprio diventati amici, nel senso che abbiamo aiutato il figlio, il secondo figlio, che era in difficoltà con la scuola, è venuta anche mia figlia che l'ha aiutato un po' a fare i compiti. Abbiamo condiviso un po' le nostre cose, tanto che hanno chiesto ad Andrea, che veniva con me a portare il pacco, di fare da padrino alla cresima e abbiamo partecipato a tutti i sacramenti. Adesso non hanno più bisogno del pacco perché ringraziando il Signore ci hanno proprio detto che c'è gente che ha più bisogno di noi, però ci sentiamo per i compleanni, per Natale, ed è molto bello ritrovarci. Sono anche venuti a trovarmi a casa, tutti vestiti col costume nazionale, è stata una cosa molto bella.